Mi ricordo che a 23 anni, o 22, andai a Bologna per provare a fare l'ufficiale di complemento. Presi il treno delle 1.30 consigliato da un amico e arrivai a Bologna alle 3, solo che dovevo presentarmi in caserma alle 8. Mi si avvicina un ragazzo e mi diceva tu sei di Mondolfo, ti vedo sempre nel bar. Dico sì, così abbiamo discusso per ore e poi abbiamo preso il taxi per andare in caserma. E' un ricordo bello che ho, perché quel ragazzo mi ha fatto parlare di tutta la mia vita, di quello che mi era successo e di quello che abbiamo parlato del nostro futuro, dei nostri sogni. Ecco, dopo tanti anni vorrei ricordare quel momento, quella notte passata con quel ragazzo alla stazione di Bologna. C'è una notte passata con quel ragazzo alla stazione di Bologna. C'è una notte passata con quel ragazzo alla stazione di Bologna. C'è una notte passata con quel ragazzo alla stazione di Bologna. 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 Bologna.